Ben trovati dall'Ippadromo del Mediterraneo di Siracusa, andiamo ad analizzare un convegno infrasettimanale di Trotto in programma mercoledì 6 marzo dalle ore 14.40. Sono sette le corse in programma, di cui quella con maggior dotazione legata alla quarta e il premio Fiumi, si svolgerà una condizionata sul miglio riservato a cavalli di tre anni, poi invece aspettando soprattutto la seconda triste del pomeriggio che è legata al premio Volga, la sesta corsa in competizione. Andiamo direttamente ad aprire proprio con le ore 16.25 il premio Fiumi. Guardiamo il campo partenti, sono nove al via tra questi indigeni che partecipano a questa bella condizionata, anche al quanto aperta, che si terrà sul miglio. Aguate e Achela, Palferme sembrano i migliori del lotto, di mezzi anche Ariel Rab e il veloce Alcione Rab. Abbiamo chiesto un parere al driver e allenatore Lorenzo Larosa. Nargocam. Allora questo è un cavallo che allena il signor Lo Giudice, che io l'ho guidato l'altro giorno, è un puledro che ha grandi mezzi ma che è comunque immaturo, si aspetta la maturità in primavera inoltrata. La corsa è molto impegnativa, io tra l'altro sono puledri, li conosco molto 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 poco. Io proverei con il numero 5 Aguegate, non conosco questo aspiratore, è un cavallo nuovo, ma penso che Velotti ha sempre portato cavalli di qualità, quindi non lo toglierei come terzo cavallo, metterei proprio Argocam. Andiamo alla seconda tris del pomeriggio per il padromo del Mediterraneo, legata alla sesta corsa del premio Volga. Ben 16 soggetti che frequentano il campo partenti, sono indigeni di 5 anni e oltre per una categoria G impegnata sul miglio. Vediamo come Massimo Zanca, impegnato con il numero 1 e Lorenzo Larosa impegnato con tre soggetti, propongono questa analisi della corsa. Tuareg è rientrato abbastanza bene all'ultima, non aveva lavoro di svelte, il cavallo mi è piaciuto, adesso dovrebbe venire avanti di condizione, corre senza 4 ferri che è il suo standard abituale, quindi sono molto fiducioso sul cavallo. Andiamo a guardare però gli altri 15 al via. Sono abbastanza. Ruenna S che ha corso bene all'ultima, Virtual Victory che in G ci sta benissimo, Steve McQueen e Trebbe con l'8. Andiamo un po' più giù, chi potrebbe dal basso risalire? Sì, credo Taborcaffe col 13. Corsa apertissima anche questa qui, a me salta all'occhio il numero 2, Ruenna S, guidato comunque da Velotti, che è un buon numero. Poi come secondo cavallo metterei Taborcaffe, come terzo il mio, Tarn RS, ripeto, sono condizionati dai numeri ma comunque l'altro giorno mi corre bene. Per una quarta moneta proverai Urius Caff, numero 6. Apertura del convegno di trotto affidato mercoledì 6 marzo alle 14.40 al premio Elba. Si correrà sul miglio con indigeni ed europei di 4 anni, sono frequentanti una condizionata, sono 8 i soggetti al via. Ci siamo affidati al driver mistero Lenzo Larosa perché è impegnato anche con il numero 6 di Zeus Sass. È una corsa un po' tosta, impegnativa, il numero ci penalizza un po', però credo che comunque è un cavallo che può dare il meglio di sé. Tra l'altro per la prima volta in questa pista lo ripresento senza quattro ferri, ce lo presento senza quattro ferri. Che dire, io a vedere il campo dei partenti ho visto vincere bene lunedì scorso, Zacato, quindi lo metterei come cavallo da battere. Ho Zadig del Ronco, ho Zazzi del Ronco, uno dei due, poi vedranno i giocatori quali mettere. Come terzo cavallo metterei il mio, Zeus Sass con il 6. Sotto negli ultimi numeri? Negli ultimi numeri ci sono tali che ci possono pure stare, Zircon e Rab, però credo che la vedo un po' sul quadro che ho fatto. La seconda corsa è il premio Loira invece, dove i cavalli di cinque anni e oltre in categoria F affronteranno una distanza selettiva, quella dei 2200 metri, una categoria che schiera ben nove soggetti al via. Anche qui Lorenzo Larosa è impegnato con ben quattro soggetti su nove. Abbiamo chiesto a lui, ma anche a Massimo Zanca, di parlarci del rientro di Vidal. Questa è una corsa aperta, è una 2002. Io l'altro giorno vinco, dopo 45 giorni, a stralontano delle corse con Varano Jet. Fondamentalmente vince bene, era una 2002. Quindi lo schiererei tra i primi tre. Poi vedo con un buon numero Stefano HP, altrettanto buon numero Passpartout BLV. Non disdengherei Villa Orba Jet che è l'ultima la vince in 13.9600 metri. Vidal è il cavallo che è a rientro, dopo un 6-7 mesi ha subito un'operazione delicata alla gola. Quindi più che altro è una corsa per portarla avanti di condizione, fare un lavoro svelto. Speriamo che si comporti bene, nient'altro. Andiamo a guardare il campo partente allora di questa corsa. Sì, vedo dei cavalli come Stefano HP, Villa Orba Jet e Scela Bossi che secondo me sono un tantino superiore agli altri in questa corsa. La terza corsa invece è il premio Ural. Scatterà alle 15.50. Sono indigeni d'europei di 4 anni, cavalli impegnati sul miglio per una bella condizionata. 9 soggetti al via, il numero 1 dello schieramento sembra essere favorito, Zephyr, Wildsell, d'altronde ha dimostrato tantissimo. Ne parliamo con Lorenzo Larosa. Ci provate con Zekifont. Ma è un cavallo che tengono fuori, lavora un po' al mare. È un cavallo che potrebbe anche dire la sua in questa corsa qua. Però io ho tanta simpatia per una cavalla, Zephyr, Waisel, che metterei come cavalla da battere. Poi Zekifont, Zankos. Sorpresa, Zultanio. E andiamo alla quinta corsa, una bella condizionata, il premio Danubio, che schierava sui selettivi 2.200 metri, cavalli di 5 anni e oltre. È una condizionata ben frequentata, 10 soggetti al via. Ci affidiamo a Massimo Zanca con il suo potenziale ultra-cagemar. Sì, il cavallo è all'ultima sbaglia perché è un po' in discesa. Lui è un cavallo che soffre un po' l'ambio, la pista è un po' duretta e allora non ce l'ha fatta. Qui col 2 parte in salita, credo che lui riesce a partire questa volta. È un buon piazzamento, lo può strappare in questa categoria. Andiamo a guardare gli avversari. Gli avversari, c'è Vacanzaggetti, che è una cavalla che con questi non potrebbe correreci. Credo che potrebbe andare al comando e finirla lì. Poi c'è Usterenia TRGF, che è una cavalla che parte abbastanza forte. E Time Taffi, che è l'ultima corsa abbastanza bene. Sorpresa? Sorpresa, vieni CHSM col 10. La settima corsa invece sul Miglio impegna in una a reclamare ben 14 soggetti al via. Indigeni di 5 anni e oltre impegnati per il premio Po per chiudere appunto il convegno in Salchi previsto mercoledì all'ippodromo di Siracusa. Tra i 14 al via anche Nicolai e Stellaz e ci affidiamo a Lorenzo La Rosa per decifrare il contesto in cui sono impegnato. Anche il numero 10 dello schieramento con Massimo Zanca ha possibilità. E allora vediamo cosa ci dicono gli addetti ai lavori. Nicolai sta bene. Ha fatto una corsa di rientro la settimana scorsa, quindi dovrebbe essere più in condizione. Nicolai nella Terna. Anche Stellaz mi piace. Callo Base mi piace molto Royal Viking. Voltaggio. La cavalla sta abbastanza bene. Purtroppo non riesce a correre spesso per via dei numeri, non riesce a prendere mai un numero buono. Adesso c'è il 10. Speriamo una buona piazza. la calla sta abbastanza bene comunque. Chi sono i cavalli invece da battere? Ho visto correre bene l'ultima volta Unicom col 3. Virtualo al Pico al Segal, nella calla che si ritrova nella pista, lei si sta abbastanza bene. E poi niente, da dietro, credo, voltaggio col 13. Vi ricordo dunque l'appuntamento con il Trotto al Mediterraneo. Mercoledì 6 marzo, con l'inizio delle riunioni alle ore 14.40. Sono ben sette le corse in programma. Una bella condizionata al Montepremi più alto, 9.900 euro, relegata appunto al premio Fiugi, la quarta in palinzesto. Poi la seconda tris nazionale delle ore 17.35 legata al premio Volga. Arrivederci.